Andrea Camilleri Icaro Visto e considerato che avvigata l'acqua non potabile del dissalatore veniva erogata due volte la settimana per ore 4, Visto e considerato che il numero degli emigrati in Belgio e in Germania aveva toccato quota 2.213, Visto e considerato che il numero dei disoccupati aveva superato il 70% della popolazione, Visto e considerato che una recente indagine aveva rivelato che su 10 giovani 4 si drogavano, Visto e considerato che il porto era stato da appena due mesi scalato alla categoria inferiore, Visto e considerato tutto questo e altro, il sindaco aveva indetto solenni festeggiamenti in occasione del 150esimo anniversario della proclamazione di vigata, già denominata sottoposto Molo di Montelusa, a Comune Autonomo. Nel programma dei festeggiamenti, che si sarebbero svolti lungo l'arco di una semanata, dal 25 al 30 giugno, era inclusa per tutte le sere l'esibizione della Famiglia Moreno, della quale qualcuno, che aveva avuto la fortuna di assistere a questo speciale spettacolo nelle città del nord, lungamente favoleggiava. Il nome artistico prescelto dalla troupe, Famiglia Moreno, appunto, dava l'idea di un gioco innocente e al quale i nonni potevano assistere con i nipotini. Ma era un inganno, dicevano i ben informati, tant'è vero che sui manifesti c'era la scritta trasversale vietato ai minori di anni diciotto. Debitamente messo al corrente dalla mogliere di uno che lo spettacolo aveva veduto a Bergamo, padre Burruano, arciprete, si scagliò contro il sinnaco, il quale, si maravigliò il parrino, apparteneva a un partito il cui capo e fondatore aveva una zia monaca, che non mancava mai di nominare. Ma il sinnaco fu irremovibile. Il suo, replicò, era un partito che voleva gli uomini liberi, la sua amministrazione non era come quelle passate governate da gente senza Dio, senza patria e senza libertà. E quindi gli adulti, se a quello spettacolo volevano andarci, ci andavano. Ma sannò, potevano scegliere tra due manifestazioni contemporanee all'esibizione della famiglia Moreno, la corsa coi sacchi e il torneo di scopone scientifico. Gerhardt e Annelise Bolt, fratello e sorella, questa minore di due anni, nati e cresciuti in un circo, già da picciriddi si esibivano come acrobati. A diciotto anni, Annelise, addiventata ora una picciotta bionda che dava punte alle fimmine da copertina, aveva perso la testa per un pilota d'elicotteri, Ugo Rittner, e se l'era maritato. Era stato proprio a Ugo che era venuto in testa di formare, con la mogliere e il cognato, la famiglia Moreno. Tre giorni avanti l'esibizione, nel posto prescelto venne costruita, con tubi di ferro, una grandissima struttura circolare a cielo aperto. Sui tralicci fu applicata una spessa tela pittata in modo da raffigurare il Colosseo. La struttura, capace di 400 posti disposti torno-torno alla curvatura interna, aveva al centro un ampio spazio circolare coperto interamente da una pedana di legno bianco. Allato alla struttura vennero allocati una fotoelettrica girevole e un alto traliccio, che reggeva una cabina in legno con un'antenna sopra. L'esibizione, secondo il manifesto, doveva principiare alle 21 e 30 precise, ma già da un'ora prima la sala era gremita da mascoli vigatesi, schetti e maritati, e malgrado che il costo del biglietto fosse considerevole. Fimmine, invece, nenti. L'avvertimento che vietava lo spettacolo ai minori di anni 18 le tenne lontane, almeno per quella prima sera. Allora stabilita, con precisione teutonica, il fascio luminoso della fotoelettrica pigliò ed esplorare il cielo, mentre una musica di film di spavento intronava agli spettatori. Tutto il pubblico stava con la testa esata al cielo nivuro, ma nella stessa posizione ci stavano magari i vigatesi che erano di fora. Poi la fotoelettrica inquadrò un elicottero e lo seguì fino a che venne a posizionarsi, alto, sulla verticale della struttura, pareva volesse atterrare sulla pedana di legno. Invece, dall'elicottero, calò una lunga fune che terminava con un anello e lungo la fune oscillante discese uno, infagottato in una tuta spaziale argentata. E cominciò a fare una serie di spettacolose acrobazie. In paesi, intanto, si era scatenato un 48, tutti sui balconi o alle finestre a tagliare in cielo. Il torneo di scopone e la corsa coi sacchi furono sospesi. L'acrobata terminò il suo numero con rapidissimi volteggi a un solo braccio che lasciarono i vigatesi senza respiro. Dall'elicottero calò un'altra fune alla quale era attaccato un trapezio e sulla barra c'era assittata una fimmina, lo si capiva dai capelli biondi a crocchia, che aveva magari lei la tuta, ma senza casco. Arrivata all'altezza dell'altro acrobata, la fimmina eseguì a velocità incredibile alcuni esercizi a solo che erano chiaramente molto difficili. Appresso, principiarono una serie di acrobazie a due. La gente gridava bravi, applaudiva, faceva voci, ma loro erano troppo alti per sentire. Al termine di questo balletto aereo, le funi vennero allungate fino a due metri dalla pedana e gli acrobati scomparirono alla vista di vigatesi che non avevano pagato il biglietto. La foto elettrica s'astutò, l'elicottero ritirò le funi e s'allontanò, un riflettore solo s'accese sulla pista. E la musica canciò, anche metaforicamente, dando inizio a quella seconda parte dello spettacolo per cui padre Burruano, l'arciprete, aveva avuto parole di fuoco. La Fimmina saltava giù dal trapezio, fingeva di cadere malamente e restava svenuta, le braccia allargate, le gambe divaricate. Allora il suo compagno si liberava dalla tuta e compariva vestito solo di una pelle di tigre come una maschera di leone sulla faccia. La Picciotta, ripigliati i sensi e visto l'armalo, si scantava e si metteva a correre. Una prima zampata del leone le portava via la parte superiore della tuta lasciandola in reggiseno. Un'altra zampata la lasciava in mutandine. Allora la Picciotta, capite le intenzioni del leone, gli faceva il gesto d'aspettare e principiava un lentissimo e voluttuoso spogliarello al termine del quale restava con un quasi invisibile tanga. E qui cedeva alle voglie del leone che non solo pareva conoscere a memoria il Kamasutra ma era magari in grado di farne un'edizione riveduta e ampliata. Faceva tanticchio di frisco quando l'esibizione finì in un delirio d'applausi ma gli uomini erano tutti accaldati e sudati come se fossero stati davanti a un forno. L'elicottero si rimise a perpendicolo, calò le funi, i due ringraziarono ancora una volta e stavano per risalire quando capitò quello che capitò. «Che capitò?» rispose Mimìa Ugello la mattina presso a Salvo Montalbano. «Non so se chiamarla farsa o tragedia. La picciotta aveva appena agguantato il cavo che si sentì una voce dispirata, tanto straziante che la gente ammuto lì. No, no, non andartene, non volare via!» faceva quella voce. Stava interpretando il sentimento di tutti. Lei, con una mano a tenere il cavo, gli occhi sorpresi, si era sciolti i capelli mentre ringraziava, le arrivavano al fondo della schiena, le gambe lunghissime, forti, che ti nasceva il pinzero che se venivi a trovarti in mezzo a esse erano capaci di spezzarti in due, ma nello stesso tempo così femminili e con quel culetto tanto alto e sodo che arrivava al livello dei miei dolori cervicali e quelle minne rosate allo scoperto. Montalbano fece un fischio alla pecorara, Mimìa Ugello si scosse, nisci dal sogno. Mi voltai a tagliare chi facesse quelle voci, non lo distinsi bene, era un picciotto tenuto a stento da due vicini, poi il picciotto si liberò, si precipitò sulla pista. La Fimmina, visto il pericolo, salì agilmente sulla fune. Il picciotto tentò magari lui di andarle appresso, ma venne abbattuto da un pugno in faccia dell'acroba tamascolo. Il picciotto cadì a terra, i due si arrampicarono sulle funi, l'elicottero se ne andò. Io scesi in pista, il picciotto si stava lentamente susendo da terra, dalla bocca gli colava sangue per il cazzotto ricevuto, ma farfugliava la voglio, la voglio. Aveva gli occhi spiritati di un pazzo, trimava tutto. L'ho diffidato, gli ho detto che se lo trovavo ancora nelle vicinanze la sera appresso, l'avrei fatto arrestare. Non so se abbia capito quello che gli dicevo. E lo sai chi era? Nenè Scozzari. A sentire quel nome, magari il commissario strammò. Ma come? Nenè Scozzari, stimato e vantato in tutta vigata per la serietà, la compostezza, l'educazione. Figlio di un avvocato, il numero uno del paese, benestante, iscritto all'azione cattolica, laureato in legge a 23 anni, da sei mesi zitto con Agatina Lovullo, la capa delle figlie di Maria. E si metteva a fare pubblicamente di queste cose, dando scandalo. Io non mi ci capacito, fece Augello. Se riusciva ad avere tra le mani l'acrobata, se la fotteva lì davanti a tutti. Questo successe nell'esibizione, la prima, del 25. Sparsasi la voce dello spettacolo nello spettacolo dato da Nenè Scozzari, la gente al botteghino la sera presso fu tanta che dovettero intervenire le guardie comunali a mettere ordine nell'arressa. Magari una decina di fimmine maritate, accompagnate dai mascoli, si fecero vedere. Ci andò pure Mimì Augello, il quale, con faccia attenuta a stagna, aveva detto a Montalbano che la sua presenza era indispensabile perché non capitassero incidenti come quello del giorno avanti. Ma poi finì col confessare al suo superiore che le cosce dell'acrobata tedesca non gli avevano fatto pigliare sonno. Lo spettacolo del 26 filò liscio a parte un leggero malore che venne sul più bello del Kamasutra al cavaliere Shibbetta di anni 70 che dovette essere portato fora a braccia dal figlio e dal nipote dato che tutti gli altri non si erano voluti cataminare per non perdersi manco un minuto dell'esibizione. Obediente alla diffida, Nenè Scozzari non si era fatto vedere e non si era fatto vedere dalla notte del 25 nemmeno dai suoi genitori coi quali abitava. La mattina del 27 verso le 11 nell'ufficio del commissario si appresentò l'avvocato Giulio Scozzari il padre di Nenè. Mio figlio non torna a casa dalla notte del 25 dopo che ha fatto la farsa che ha fatto che ci è caduta la faccia per terra dalla brigogna. È scomparso? C'ha quale scomparso? Fece ammaravigliato l'avvocato. So benissimo dove sta. E dove sta? A Punta Speranza dove ci sono l'elicottero e i camper di quei fottuti tedeschi. Punta Speranza dove gli acrobati avevano fatto la loro base era una zona deserta quasi a strapiombo sul mare. E che fa? Niente sta dentro la macchina a poca distanza e aspetta che la tedesca ne esci fora per tagliarla lo stronzo. E lei che vuole da me? E se lei potesse andarci a parlare a convincerlo di non fare il buffone? Erano le undici e mezzo non aveva gana di andare a parlamentare col picciotto. incaricò a Mimì a Ugello che non se lo fece ripetere due volte partì a razzo capace che arrinisciva a vedere la tedesca da vicino. Tornò dopo due ore stravolto. Madonna Santissima Salvo arrivato a Punta Speranza ho trovato questa situazione. Nenè Scozzari stava appoggiato al cofano della sua automobili a una ventina di metri dagli due camper e dall'elicottero. La tedesca invece stava stimmicchiata nuda completa sopra un lettino e pigliava il sole. Nenè teneva in mano un mazzetto di margherite che aveva appena cogliuto si avvicinò alla Fimmina glielo posò sulle minne e tornò al suo posto. Lei allora lo tagliò. Madonna Santa Salvo che tagliata ma quella appena può appena marito e fratello le danno un momento di respiro una sveltina a Nenè gliela fa fare garantito e i due uomini gli spaccano la faccia questa volta sul serio. Ma dai Salvo questi tedeschi sono non sono siciliani una scopatina a mordi e fuggia le Fimmine loro la perdonano. A proposito dove erano gli uomini? Si stavano facendo il bagno cento metri più sotto. Ci hai parlato a Nenè? Eh sì ma credimi sono sicuro che non mi ha sentito ho avuto l'impressione che manco mi vedesse ero aria per lui tagliava sempre la tedesca e lei tagliava a lui che potevo fare? Me ne sono tornato te lo confesso quella tedesca mi stava facendo bollire il sangue ma non l'hai mai vista una Fimmina nuda? come a quella mai disse sincero Mimì e non è questione solo di bellezza ora so veramente che intendono gli americani quando parlano di sex appeal gli spettacoli del 27 e del 28 andarono benissimo solo che le Fimmine presenti erano diventate il doppio degli uomini e questo si spiega disse Mimì che non aveva mancato una serata se fossi Fimmina perderei la testa per lui è preciso a sua sorella solo che lo è al maschile la mattina del 29 Mimì Augello arrivò in ufficio tanticchia tardi con un sorrisino sulle labbra ti si ruppe la sveglia ma quando mai stavo venendo in ufficio quando davanti all'autonoleggio ho visto i due tedeschi il pilota e l'acrobata che se ne stavano partendo in macchina allora sono ciasuto e ho spiato al proprietario sono andati a Catania a fare un sopralluogo devono esibirsi là Mimì tu sei più strucciulero d'una portinaia d'una cammarera e non è finita fece Mimì con gli occhi sparluccicanti mi è venuto un pinsero d'andare a punta speranza disse Montalbano Mimì Augello lo tagliò ammirativo ci incertasti quando arrivai mi fermai a distanza per non fare sentire il motore Nenè non c'era ad entrare alla sua macchina ma costai al camper che hanno la tedesca e suo marito non ti dico Salvo era tutto chiuso ma lei era incaniata gridava che pareva la stessa che si era scannando se a Nenè la forza gli regge può stare a cavallo fino alle sei di stasira prima di quell'ora i due tedeschi non ce la fanno a tornare non te lo dicevo salvo che quella appena poteva non se lo lasciava scappare a Nenè alle sei e mezzo del matino del 30 il commissario venne arrisbigliato da una telefonata dell'avvocato giulio scozzari dottor montalbano mi perdoni l'ora ma sono molto preoccupato per mio figlio che è successo come ho fatto in questi giorni stanotte verso luna sono passato dalle parti di punta speranza la macchina di mio figlio non c'era l'elicottero e i camper erano al loro posto sì tutti erano rientrati dallo spettacolo ho aspettato ancora un'ora non si è visto ho pensato che fosse finalmente tornato a casa non c'era poteva dire al padre che forse il figlio stanco della lunga cavalcata come la chiamava mimì era andato a ritrovare le forze in qualche albergo senza dover dare spiegazioni ai genitori e beh avvocato è probabilmente qualcosa è cambiato l'avvocato non capì non è cambiato niente sono passato manco un quarto d'ora fa i tedeschi dormono e non ci sono né mio figlio né la sua macchina avvocato e suo figlio è maggiorenne e che c'entra e c'entra sì perché non possiamo andarla a cercare come se fosse un picciriddo perso aspettiamo ancora tant'icchia se non ricompare vedo quello che posso fare ma l'angoscia dell'avvocato scozzari in qualche modo gli si comunicò alle otto del matino invece di dirigersi verso l'ufficio decise di fare una visita ai tedeschi della macchina di nenè scozzari non c'era traccia era persuaso che i tedeschi dormissero ancora invece i due mascoli erano vigilanti hugo strumentiava nel rotore gerard si esercitava alle parallele il commissario gli si avvicinò non sapeva una parola di tedesco ma sperava di farsi capire lo stesso tu sai dove è andato a finire l'uomo che stava fermo qui con una macchina gerard che era sceso dalle parallele allargò le braccia scosse la testa si accostò l'elicotterista che aveva sentito la domanda italiano innamorato non più fisto e rise magari l'acrobata scoppiò in una risata di testa sgradevolissima non si può confessare a nessuno forse manco a se stesso che un'indagine viene avviata solo perché c'è stata una risata troppo sgradevole dintra la quale suonavano derisione disprezzo trionfo malvagità appena in ufficio chiamò fazio e gallo tu disse a quest'ultimo vai senza farti notare appunta speranza dove gli acrobati tedeschi hanno fatto la base portati un binocolo e cellulare voglio essere informato della qualunque e tu continuò rivolto a fazio appena arriva mi mia ugello vai con lui a pigliare la tedesca a risbigliate la se dorme non me ne fotte niente la voglio qua ma da sola poi telefonò all'avvocato scozzari notizie di suo figlio niente commissario siamo disperati subito però l'avvocato si insospetti perché mi ha telefonato commissario ha saputo qualche cosa perché mi ha chiamato montalbano non seppe che rispondere mi scusi ho molto da fare mi telefoni se ci sono novità riattaccò e in quel momento comparse mi mia ugello e tu non sei andato con fazio e siccome ho telefonato per avvertire che avrei tardato fazio è andato a pigliare la tedesca con galluzzo ma io volevo che ci andassi tu perché a forza di fottere turiste qualche parola di tedesco la spiccichi se per questo ma cari galluzzo quando era picciotto è andato a cercare travaglio in germania mimì quando ci portano la tedesca voglio che tu stai con mia non perderti a tagliare le sue minne e le sue cosce ma mi vuoi spiegare cosa è successo nenè scozzari è scomparso con la macchina tutto qua e dopo la gran scopata che s'è fatta ieri sì mimì magari io l'ho pensato però c'è qualcosa che non mi persuade mimì a ugello sa zitti quando il suo superiore diceva che qualcosa non funzionava voleva dire veramente che qualcosa non funzionava lo sapeva per spirenzia appena annelise trasì nell'ufficio vestita con un paro di pantaloncini corti aderentissimi e con un grande fular di seta a coprirle il petto montalbano capì la sofferenza di mimì quando l'aveva vista nuda aveva ragione il suo vice non si trattava solo di bellezza sorrise ad augello che già conosceva fece un cenno con la testa al commissario spiò qualcosa in tedesco sta domandando se è una faccenda di passaporti nein fece distinto montalbano nein disse contemporaneamente mimì si taliarono scusami disse il commissario dille che vogliamo sapere come ha passato la giornata di ieri mimì domandò e quella rispose a lungo e via via che parlava augello appariva sempre più imbarazzato che disse e beh salvo questa usa parlare papale papale dice che siccome a ieri era rimasta sola ne ha approfittato per fare sesso ha detto proprio così con un bel ragazzo siciliano che è impazzito per lei non hanno mangiato sono stati assieme fino alle quattro del pomeriggio quando lei l'ha mandato via si scantava che tornassero il marito e il fratello che erano andati a catania appena il ragazzo è uscito lei si è addormentata di colpo era ha detto così un pochino provata i miei complimenti a nenne scozzari fece montalbano verso le sette di sira continuò mimì suo marito la svegliò e lei cominciò a prepararsi per l'esibizione domandale se quando è uscita per montare sull'elicottero la macchina del giovane c'era ancora dice che non lo sa tradusse mimì e c'era già scuro fitto ha detto che poco fa quando i nostri sono andati a pigliarla se è meravigliata di non vedere l'auto al solito posto ne è rimasta dispiaciuta e contenta spiale perché dispiaciuta e poi fatti spiegare perché contenta la risposta di annelise fu abbastanza lunga dispiaciuta perché gli uomini secondo lei sono tutti porci egoisti che appena hanno quello che domandano o si addormentano o vanno nel cesso a pisciare ha detto così è oppure spariscono contenta perché temeva qualche brutta reazione di gerard il quale non solo è geloso ma è magari un violento stai traducendo bene mimì guarda che gerard è il fratello il marito di nome fa ugo lei ha detto gerard però ora domando meglio mimì spiò qualche cosa e la risposta della tedesca lo fece a un tratto arrossire violentemente montalbano strammò quella faccia stagnata del suo vice era capace da arrossire che disse che disse ha detto molto semplicemente che quando aveva 14 anni suo fratello è stato il primo uomo della sua vita perché prima se la faceva con gli elefanti commentò poco galantemente il commissario ha detto magari che gerard ha sofferto molto quando ha voluto maritarsi con ugo ma che fortunatamente suo marito si è dimostrato molto comprensivo ha aggiunto che il povero gerard quando fanno il camasutra in pista soffre di una forte tensione perché è costretto a mimare ciò che farebbe sul serio la tedesca si calò in avanti a levarsi un gran lino di polvere dall'alluce che sporgeva dai sandali altamente se ne fotteva delle reazioni dei due uomini alle sue parole dille di andarsene fece montalbano è chiaro che non sa niente di nenè sarà troia ma mi pare sincera magari a mia appoggiò mimì convocò tutti i suoi uomini fatta eccezione di gallo che se ne stava punta speranza a taliare che facevano i tedeschi e spiegò quello che aveva in mente di fare tu germanà vai a casa dell'avvocato scozzari e ti fai fare una denunzia per la scomparsa di suo figlio nenè deve essere retrodatata ad almeno il 28 mattina altrimenti non ci sono le 24 ore richieste dalla legge per principiare le ricerche questa denunzia la consegni al dottor augello tu mimì la denunzia la presenti al giudice gli impapocchi qualche minchiata e ti fai dare un mandato di perquisizione per i caravan il tir l'elicottero insomma per tutto quello che i tedeschi hanno ma questa perquisizione deve essere fatta stanotte non prima appena atterrano con l'elicottero a punta speranza dopo lo spettacolo tortorella galluzzo grasso vanno con una macchina di servizio nei paraggi di punta speranza senza farsi vedere dai tedeschi cercate l'auto del picciotto augello vi dirà la marca e il colore tu germanà ti metti in contatto col cellulare di gallo ti fai spiegare dove si trova e tra un'ora gli dai il cambio e tu spiò augello io io me ne vado a mangiare rispose montalbano trasi sparato catarella dottori dottori ora ora ti rifinò gallo dice così che i tedeschi i mascoli se la stanno pigliando con la tedesca fimmina le hanno fatto voci esso fraccia la magari spintottonata ho cattive notizie fece mimì trasendo in ufficio verso le 4 del dopo pranzo il giudice non ha firmato il mandato no non ha detto biz ce l'ho in sacchetta il fatto è che mi è venuta un'idea e sono passato all'autonoleggio ho spiato al proprietario a che ora i tedeschi avessero restituito la macchina ma risposto verso le 6 e mezzo la riportata gerhardt che per tornarsene al campo ha pigliato l'autobus per monte reale che for che ferma nelle vicinanze di punta speranza e ti pare una brutta notizia c'è un seguito il proprietario dell'autonoleggio ha aggiunto che però i tedeschi erano tornati prima e come fa a saperlo perché li ha visti passare verso le 3 e mezzo andavano in direzione di monterreale quindi di punta speranza e perciò capace che i due hanno visto nesci rinennè dal camper di annelise esattamente e la cosa mi dà pensiero squillò il telefono era germanà che aveva dato il cambio a gallo dottore qui tutto è tranquillo i due acrobati si stanno esercitando alle parallele gerhardt e annelise dopo la sciarra che ha visto gallo hanno fatto la pace si sono abbrazzati e si sono vasati la vuole sapere una cosa dottore da come si vasavano se quelli sono fratello e sorella io sono il papa non ti formalizzare germanà i tedeschi usano a cussì fanno tutto in famiglia peggio di noi alle 7 la voce trionfante di tortorella annunziò che avevano ritrovato l'auto di nenè scozzari a 3 chilometri da punta speranza era stata infrattata nel folto di una macchia e per di più ricoperta con rami tagliati d'incia non c'era nessuno che dovevano fare il commissario rispose che lasciassero le cose come le avevano trovate grasso sarebbe rimasto di guardia nelle vicinanze gli altri potevano rientrare alle 8 si appresentò gallo vado a dare il cambio a germanà lo sa commissario gli altoparlanti dei tedeschi dicono che stasera ci sarà un numero speciale lo farà un acrobata che si chiama icaro e dove l'hanno pescato si spiò il commissario ma si diede immediata risposta certamente l'avevano trovato a catania mi raccomando disse montalbano qualsiasi cosa stramma che vedi o che senti telefona io mi porto appresso il cellulare quasi quasi stasera ci vengo magari io disse montalbano quanto costa il biglietto mimì lo tagliò all'occuto ma non c'è bisogno di biglietto no e perché perché noi siamo autorità non lo sapevo disse sincero il commissario e come no abbiamo i posti riservati in prima fila alle 9 e 20 stavano niscendo dall'ufficio che squillò il cellulare era gallo commissario la picciotta tedesca non ha pigliato posto d'inci all'elicottero lo vedo bene perché all'interno hanno la luce la femmina non c'è e proprio in questo momento stanno partendo quanti sono d'inci all'elicottero due commissario l'elicotterista è l'acrobata damascolo che tiene in mano il casco della tuta spaziale l'ho riconosciuto benissimo e annelise dov'era e il nuovo acrobata icaro che era stato annunziato dagli altoparlanti gallo fai una cosa avvicinati al camper se c'è qualcosa che non ti persuade agisci di tua iniziativa ma telefonami gli altoparlanti avevano annunziato uno spettacolo diverso e infatti cominciò che l'elicottero fermo sulla perpendicolare calò la prima fune quella con l'anello fino a toccare la pedana di legno passò qualche minuto e non successe nient'altro poi imbracato alla seconda fune dalla quale era stato levato il trapezio apparse un'acrobata le fasce che lo tenevano alla fune erano intrecciate da far sì che l'uomo stava a panza sotto pareva una rana era in mutande canottiera e calzini indossava solo il casco spaziale un costume veramente ridicolo l'acrobata cominciò a muovere le braccia e le gambe scompostamente in modo talmente buffo che alla gente venne da ridere l'uomo appeso alla fune si fermò le braccia aperte le gambe spalancate tremava tutto e ora pareva un ragno indubbiamente era icaro un clown è molto bravo disse mimì al commissario montalbano non rispose si stava domandando com'era possibile fingere una paura folle totale fino al punto da farla apparire vera di scatto vista l'altra fune vicina l'acrobata icaro s'agitò violentemente per raggiungerla con le mani protese ma si capovolse la testa in giù i piedi in aria il pubblico scoppiò a ridere applaudì i movimenti del clown che mimava tutti i gesti della paura si fecero frenetici e in quel momento il cellulare di montalbano squillò commissario sono gallo ho sentito un lamento venire da un camper ho sfondato la porta c'era la tedesca legata e imbavagliata pare pazza commissario e io non capisco quello che grida vuole scappare ma graffiato tutto tienila lì gridò a gallo e gridò ancora rivolto ad augello vieni con me corse fuori mimì gli si affiancò ce l'hai la pistola appena entriamo metti fuori combattimento tutti quelli che incontriamo si precipitò dal re la foto elettrica principiò ad arrampicarsi lungo la scaletta di ferro del traliccio sudato le mani artigliate ad agguantare le barre pativa di tanticchia di vertigine mi vuoi spiegare che succede gli spiò mimì che saliva presso di lui non mi parlare ora minchia non ho fiato ansimo arrivò sulla piattaforma nella quale c'era la cabina si fece di lato mimì a ugello si catapultò contro la porta che era semplicemente accostata precipitò a valanga sopra un uomo che era assittato davanti a una console e che finì a terra con tutta la seggia montalbano gli strappò la cuffia dalle orecchie sentì domandare qualcosa in tedesco la passò a mimì sulla console c'erano due microfoni il commissario attivò quello al quale non stava parlando l'uomo quando erano entrati quelli dell'elicottero continuano a domandare cosa sta succedendo qua fece mimì e tanto per avere le mani libere calò col calcio della pistola un colpo sulla nuca dell'uomo che si stava rialzando stordito da terra vigatesi gridò montalbano dalla finestrella della cabina si vedevano tre quarti di platea e quasi tutta la pista il commissario notò che la sua voce era arrivata tutti si erano voltati verso gli altoparlanti in sala vigatesi ripete e il diavoletto maligno dell'ironia che sempre gli stava a lato magari nei momenti più difficili gli suggerì da aggiungere fratelli popol mio come alberto da giussano vinse la tentazione il commissario montalbano sono l'uomo che sta appeso lassù non è icaro non è un clown è il nostro compaesano nenè scozzari che i tedeschi hanno pigliato e gli stanno facendo rischiare la vita aiutatemi quelli dell'elicottero hanno capito qualcosa bisogna fare presto disse concitato mimì con la cuffia alle orecchie già ma fare cosa il commissario tornò a tagliare la gente e vide uno spettacolo che lo commosse gli chiuse la gola due o tre picciotti si stavano arrampicando come scimmie lungo la fune un grappolo umano di una trentina di persone si era afferrato alla stessa fune e faceva peso montalbano tagliò l'elicottero era chiaramente in difficoltà ce l'avrebbe però fatta lo stesso a sollevarsi parla con questi due stronzi disse montalbano digli che se si allontanano si portano appresso in volo una decina di persone sospese a una fune può essere una strage si facciano bene i conti ma sapeva già come sarebbe andata a finire lasciate libero l'elicottero gridò ripigliate i vostri posti infatti la fune che reggeva nenè scozzari svenuto pareva un pupo coi fili rotti principiò lentamente a calare a terra le cose sono andate in questo modo la tedesca uno stocco di figa della quale il mio vice augello porterà in perituro ricordo avendo la vista nuda approfitta dell'assenza del marito e dell'amante che altri non è che suo fratello per concedersi qualche ora di intense scopate nel suo camper con nennè scozzari ex giovane da bene impazzito per lei i due tedeschi tornati prima del tempo sorprendono lo scozzari che esce dal camper gli viene l'idea di fargli pagare la scopata con uno scherzo crudele l'agguantano lo legano lo nascondono nell'elicottero fanno sparire l'auto quando la figona si sveglia dal sonno riparatore i due la rimproverano per quello che ha fatto ma la cosa pare finire lì mandano un accolito in giro per il paese ad annunziare che quella sera allo spettacolo parteciperà un acrobata nuovo icaro poco prima di partire dalla loro base i due buontemponi legano e imbavagliano la rispettiva moglie e sorella amante la quale evidentemente si rifiuta di partecipare allo scherzo i due mettono in mutande letteralmente lo scozzari gli infilano il casco perché non si sentano le sue grida e lo calano con la fune ecco creato il clown acrobata icaro io ho capito la faccenda quando un mio agente mi ha telefonato da avere scoperto la ragazza legata e imbavagliata le mie proposte sono ergastolo ai due stronzi che sia chiaro non avevano intenzione di ammazzare lo scozzari ma solo di fargli pigliare un bello spavento libertà condizionata alla tedeschina il condizionamento della libertà consiste nel lasciarla in balia per un mese del mio vice dottor mimì a ugello questo riferì nel suo rapporto al giudice il commissario montalbano ma usò altre parole e omise le proposte finali